Bisogna guardare al futuro, costruire una nuova manifattura, far diventare i nostri distretti produttivi, distretti tecnologici. Oggi, dopo qualche anno di lavoro che ha costruito i laboratori e i progetti delle imprese, con i Tecnopoli vogliamo guardare ad un nuovo obiettivo, cioè far crescere davvero una grande impresa per la ricerca, con il coordinamento dei Tecnopoli, con un lavoro integrato, una impresa efficiente, un'impresa utile alle imprese e non solo alle imprese ma a tutta la nostra regione.